E' un giorno triste per me, molto triste perché è un onorevole perché la nostra adesione alle dimissioni scaturisce anche un fatto di coerenza, sono due anni, due anni di appelli, di richieste, di cercare di trovare convergenze in questa amministrazione. Abbiamo fatto delle proposte, abbiamo chiesto documenti congiunti per fare il problema sulla sanità, abbiamo chiesto più volte di ripensare su quelle che sono le azioni nei confronti dei cittadini e quindi non ritenevamo in questo momento che si possa avere un colloquio, un dialogo sotto aspetto. Anche negli ultimi tempi sulle dimissioni ho chiesto che vengano specitate le motivazioni per le dimissioni del sindaco per poi cercare di capire se è basato sui programmi o su altre considerazioni. E questa confusione, questa cosa a un certo momento, pensare anche a un commissariamento del comune per me è qualcosa che non mi rende molto, però ormai non c'è più possibilità. Tendo a precisare che è stata parte della maggioranza che ha fatto cadere, noi abbiamo votato per coerenze, soltanto per coerenze di quello che noi ritenevamo giusto sostanzialmente. Quindi poter rivedersi nell'ambito della maggioranza, non certo che è che è comunque sia stato diventato che non è il sono stato davantithiane. È vero. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie mille.